eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty mamma mia ragazzi buona domenica oggi vi devo dire un mare di cose tantissime novità su call of duty world war 2 ma non solo come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace arriviamo a 500 per supportare questa rubrica giornaliera e passate a visitare il mio profilo di instagram bene prima di iniziare ragazzi una cosa molto importante mi state riempendo di messaggi in merito al dlc1 e all'evento the resistance allora vi spiego questa cosa ragazzi così rispondo praticamente a tutti quanti il dlc1 the resistance arriverà il 30 di gennaio in esclusiva temporale su ps4 se lo comprate singolarmente costerà 15 euro se avete il season pass lo potrete scaricare gratuitamente l'evento invece the resistance che inizierà il 23 di gennaio e terminerà il 27 di febbraio invece è completamente gratuito non serve comprare nulla non serve un season pass questo evento è accessibile a tutti quanti la sesta divisione la resistenza è completamente gratuita le armi si sbloccheranno tramite i supply drop oppure tramite i contratti che troveremo all'interno del gioco così spero di aver risposto definitivamente a queste domande che mi avete fatto in tantissimi ieri pomeriggio entriamo nel vivo del video una delle domande più importanti e più ricorrenti che mi fate nei commenti e amanti ma le verniciature che fino a fatto il paint job di world war 2 che dice sempre in arrivo all'interno dei quartieri generali dove è bene ragazzi forse questa volta ci siamo nella notte lo youtuber prestige iski ha scritto e taggato michael con re in merito appunto il paint job dichiarando potremmo avere il paint job michael con re della sledgehammer games ha risposto la galleria degli emblemi e il paint job viva la resistenza che cos'è la resistenza è l'evento che in arrivo il 23 di gennaio ma è anche il dlc1 quindi questa risposta fa sperare e in tanti la intendono come l'arrivo finalmente delle verniciature con l'inizio dell'evento del resistance in arrivo appunto la prossima settimana staremo a vedere comunque questo post non lascia dubbio a interpretazioni le verniciature arriveranno la prossima settimana rimanete sintonizzati perché vi riporterò appunto aggiornamenti in tempo reale su questo importantissimo evento nei prossimi giorni un'altra delle novità importantissime in arrivo in questi giorni è la modifica alla salute michael con re aveva dichiarato che nel mese di gennaio sarebbero arrivati tanti aggiornamenti quello corposo che arriverà la prossima settimana uno relativo all'ottimizzazione delle armi che avete visto pochi giorni fa dove è stato ritoccato l'fg 42 la grace gun il car 98k il link enfield il combat shotgun il sawed off shotgun un'altra arriverà la prossima settimana ma di cui michael con re ancora non ha svelato la data però ha dichiarato che è in lavorazione e dovrebbe arrivare proprio all'inizio della prossima settimana un aggiornamento relativo alla salute come sapete la sledgehammer games sta lavorando ad una modifica sull'ottimizzazione della salute per aumentare la velocità di rigenerazione della stessa stanno anche apportando nuovi cambiamenti relativi alla granata amica che praticamente ci stordisce quando ci arriva contro però ancora c'è una discussione attiva sulla quale stanno lavorando e sui feedback che stanno raccogliendo dalla community quindi la modifica della salute della velocità della rigenerazione della salute secondo michael con re arriverà nella prossima settimana ma nel post che ha rilasciato su reddit.com ha dichiarato anche che si riserva il diritto di sbagliare la data una bomba invece è arrivata in casa Activision avete capito bene Activision Blizzard ha annunciato che Eric Hirschberg l'attuale CEO di Activision Publishing lascerà la società nel mese di marzo quindi fra poco meno di due mesi Eric Hirschberg il CEO di Activision Publishing lascerà l'azienda Hirschberg è entrato in Activision nel settembre del 2010 e Activision allo stato attuale ancora non ha annunciato un nuovo CEO perché stanno cercando il sostituto veramente una bomba un fulmine a ciel sereno che nessuno si aspettava è stato intervistato Eric Hirschberg dalle varie testate ha dichiarato che ha lavorato in un'azienda straordinaria ed ha un'ammirazione grandissima per la squadra che ha avuto il modo di guidare ovviamente ringrazia Bobby Kotick che è il CEO di Activision Blizzard per avergli dato la possibilità di lavorare appunto in Activision Publishing e considerate che durante il mandato di Eric Hirschberg Activision ha avuto delle prestazioni sotto termini di vendita e di successi veramente incredibili questo è stato dichiarato dallo stesso Bobby Kotick il CEO di Activision Blizzard ha detto che era proprio un leader ispiratore mancherà tantissimo la sua creatività e la sua tenacia considerate che Eric Hirschberg era il CEO di Activision Publishing ed era anche responsabile del franchise di Call of Duty di Destiny e di Skylander e Call of Duty sotto il mandato appunto di Hirschberg è stato il gioco numero uno in termini di vendita in Nord America per ben otto anni di fila quindi staremmo a vedere quale sarà il futuro di Activision Publishing e quale sarà il nuovo CEO che appunto lascia il suo posto dopo la bellezza di sette anni ma soprattutto quale sarà il futuro di Call of Duty considerando che appunto Hirschberg era anche il responsabile del franchise di Call of Duty e a novembre ci aspetta il titolo della trailer qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate arriviamo a 500 mi piace per il prossimo video informativo e noi ci vediamo con tanti nuovi video Grazie a tutti